Ragazzi, la situazione è questa questa è Baldos Gate il mio personaggio secondario è nudo perché così c'è più armatura ad ogni modo ci sarà una battaglia epica tra Goblin e Tifling e noi ci schiereremo da questa parte sono andato a inserire delle bombe qui non so se si nota qui insomma, qui, qui perché sono punti strategici adesso costatizia io mi raccolgo anche questi questi barilotti esplosivi che ci tornano utili però non così sarà un casino da gestire questa questa battaglia questi sono pesantissimi tra le altre cose questo mettiamo qui perfetto questo è un po' più vicino al bordo e questo ce lo raccogliamo perfetto mo si salva lo saliamo e si suona il corno la battaglia a inizio sarà un bordello nero proprio che ci stanno quelle ci sono state tutte le vocazioni tra le altre cose sono quindicina di ore che ci gioco negativamente uno dei miei personaggi è diventato un necromante ma non ho ancora capito come prendere i poteri nel necromante ecco ma c'è no hanno pulito il campo di battaglia è stato pulito guarda dove cazzo troppo lontano il barile dietro di questa l'ho messo bene un monologo di quello che è il cladiatore roba sti cattivoni adesso toccherà farci cioè qui dobbiamo fare una scelta ma io e te ci rivedremo negli inferi bello che prima l'ho fatto con un altro personaggio e mi chiedeva altre cose ma mi dava altre scelte è alucinante sto cazzo di ragno questo è potentissimo 18 l'ha stunnato ok le mie bombe ci sono queste lo mettiamo qui magari magari lo rendiamo invisibile così non gli sparano questo momento è scatto aspetta ok allora devo fare un po' avvicinare però quello deve morire deve morire male un brio d'aglio nascosto ma noi non abbiamo le frecce infuocate fammi vedere se c'è qualcuno qualcuno c'è le frecce infuocate qualcuno ce le deve avere queste cazzo di frecce di ghiaccio questo che è del tono dell'oscurità niente frecce no non ci credo non ci credo non c'è frecce infuocate Nicola ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo quanto è frecce di ghiaccio però ma questa pergaminata forse non è in grado di leggerla c'ha la pergaminata del lardo di fuoco a parte io perché questo non posso no niente un po' svancazzo sto fermo ok fermo lì non ti muovere tu 12 sono questi che devo fare fuori questi grossi guarda lì forse la butto giù così no non sei andata no stanno andando tutto storto allora vediamo se il dardo magico prende la botola ho fatto un macello vabbè sicuramente li ho indeboliti ho fatto un macello potevo potevo fonderire ho sbagliato proprio le tempistiche no vai la ricarichiamo la ricarichiamo ho sbagliato proprio le tempistiche quello conviene che lo faccia arrivare più sotto si devono avvicinare tutti quanti e poi patabum vabbè che esplosione però vado anche a spostare l'altro barilotto a meno che non spostiamo già tutto più indietro no no perché se si uniscono ci sono tanti cazzo ci sono però volevo dire veramente fare ok cosa raccogliere questo perfetto questi li spostiamo più dietro facciamo un'esplosione a catena che coinvolge questo punto questo punto questo punto e se mi riesce sta abbordata sarà un'esplosione talmente tanto forte dove andate dove andate dove andate e per quello non ho questo lo raccolgo non lo so pesantito dalla vita e ci mettiamo questo qua questo più qua questo lo spostiamo più avanti nella speranza che potrebbe far più danni che altro potrebbe distruggermi il portone non rischiamo lasciamo i barili come stanno davanti so che potremmo non avere protezione ma dove sta il barile non percepisco il barile chissà se mi ritolvono questi perché stanno troppo vicini mamma mia ragazzi che botta questo devo spostarlo leggermente più indietro tipo qua no e questo lo devo spostare qua sotto praticamente io lo sposto proprio in culo praticamente chissà allora questo io lo sposto qua la fa in culo io lo sposto questo viene qua io lo sposto qua sperando che poi insomma ce la facciamo trial and error one shot battaglia come for the win ma tu lo sai che cazzo arriva lì faccio uno di quegli scoppi che Napoli sposta di proprio guarda là forse questo qua però non innesca tutto vabbè se lo innesca buono se non lo innesca ci pensiamo potrei mandare unto col mago intanto intanto che attendiamo io direi che ci siamo risalviamo sul nostro autosave 21 per far così io poi ci ho speso molto molte più ore forse ci ho speso 30 ore però ti gioco effetti un indice perché mi facevo un'ora di save moriva un personaggio e tornava indietro e non lo puoi giocare diversamente perché ti affezioni ai personaggi e di nuovo questo abbiamo visto bra 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 questa gente è sotto la mia protezione che la approva ciao ora da uccidere solo i ragni so ben spero ok allora questo lo mettiamo qua invisibilizzati termina turno ok parte il nostro amico con scatto fa un maton guarda qua c'è un altro bombarolo ma questi mi hanno lasciato tutte madonna questa è la posizione perfetta però non ancora arrivano questi altri cosa sta succedendo oh no questo non è mai venuto qua che cazzo ci fa quello là ci proviamo o aspettiamo un turno cazzo ma qua c'erano un sacco di altri aspettiamo un turno ma ci occupiamo non ci possiamo occupare di questo troppo lontano allora mi servirebbe la freccia tonante 49 ah no questo non posso usare niente allora vediamo lì proprio sotto niente 42 questo è un spantaggio movimento non sufficiente ma boh proviamo mancato ma parte subito mia 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 no devo farli sparare subito già questi 2 mi hanno 2 mi hanno ok posso ancora spingerlo come il mio avversario non ok 10 buona ok vediamo un po' ah questa non c'è una freccia del ca sottolante non c'ho un cazzo che vada allora vediamo un attimo se con questo la freccia trompante ah no perché faccio andare giù anche l'altro vabbè non va bene lì non ci posso arriva dai facciamo un po' di danni magari lo cambizziamo lo laceriamo ma manco di cazzo e tu è ora di fare quello che devi fare merda merda ok non andate più avanti di così nooo sto per me sto per i coglioni minchia 23 mi vedo pure un'altra mazzata percepissi le presenze nascoste merda chi mi ha buttato giù salvini cascato rozzac dai basta salvini mannaggia la troia beh allora è un po' so sciop è salvato no sono fatti la zona cosa è successo chi l'ha tirata la freccia non posso dire un cazzo cazzo questo non è morto oh un'altra è morta no non vi muovete artificieri di merda no 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 perché non sta arrivando il mio turno dai che la sistema sta roba ok madonna gale gale il salvatore butta questo per sotto cazzo è il mio turno è il mio turno faccio incoraggiamento ma perché è già già venito qui ok ho fatto fuori questo 75 conti esperienza ottia a o a a a a Grazie a tutti. Io qua ho sto ombricolo. Ah. Ah io che cazzo faccio qua? Ah io che cazzo faccio qua? Ah io che cazzo faccio qua? Danni perforanti da acido. In realtà questa dell'oscurità si rompe diffondendo l'oscurità. Fa danni a tutta quest'aria. Che in caso converrebbe no? Ah no devo colpire un nemico e poi li attira tutto il resto credo. Vabbè forse quella... Seggiatri precipitano punta... Che cazzo fa questo? Allora fermi tutti. Infligge due nove danni vedete esplodino una defragarazione di furbi e i bersagli colpiti potrebbero... Ok questa è la migliore. Dai. Sempre che ci pigli. Non è servito un cazzo bravissima Nicola. Sei un genio della fisica e chimica. Ma Cristina deve andare in concerto. Vabbè almeno così non muoio vera... Cioè... C'è ancora possibile... Oh che cazzo. Ha fatto tutto da solo. Ottimo. Tanto c'ho questi. Vediamo se Unto prende sempre. Unto livello 2 che fa? Per dieci turni. Cantesimo in alzato. Ma non sa se... Proviamo. Pensavo esplodesse invece no. Ma ha fatto punto pure a me sta un merda. Allora. Dovrei scendere... Però credo che sia importante anche... Segare di botte questo. 7-18. Ma come è mancato cazzo? Lo spingo via però. Maffanculo. Perché ce ne sono un sacco qua. Figlio di puttana che infierisce sul mio cadavere. Vediamo come cazzo faccio a prendere. Ehm... Ehm... C'è un mezzo? Ehm... No. Proviamo. No zitto. Si è teletransferito No, 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 si, si No, 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 si, si Non mi di che mi è morta No No, 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 cazzo, no Carica partita Ed ecco perché perdo tempo su Bantusfi È morta la mia È morta la mia preferita Ecco qui Come dovrei fare adesso Il macello C'è una portata e due Cosa, questo qua non c'è No, altri barilotti Altri barilotti Barilotti Oh, un barilotto C'è il gaylotto Ok, vai, andiamo Vieni, io mi Gayl Allora, cos'è che non è Esploso Gayl Di mettere qui Perfetto Bravo il mio gayl Sì, sì, molto bravo Sì, sì Ok Tarriamo su Again Ah, aspetta, però Aspetta, aspetta Possiamo andare da Daemon Che è Lo shopper Lo shopper Il nostro Il nostro Il nostro Il shopper Ci mettiamo Una settimana Arrivare Sì, sì, sì Sono qui per combattere Fai quel cazzo Mi servono le frecce Bello Una freccia Siamo schifoso Le frecciate Una Ti basta Stardo Una freccia Che diamo Dopo Dopo Io che Scaliamo un po' di fuori Lì Per esplodare l'impatto Questo poteva essere interessante Non so quanto è la portata Però Vabbè La fatta È solata Ok Ok Guarda un po' Si salva Si gioca così A Baldur's Gate Io gioco così Qualcuno ha problemi Io gioco così Allora Secondo Secondo me Tu ti devi mettere Ti devi mettere qua Anche Tu ti devi mettere qua Mi fai veloce Veloce Tu ti devi mettere qua Perfetto E te Te Eh Questo Se tocca il padrone E te dove ti metto Te No te Prima di tutto Te do Ma c'è Quella è un po' L'esplosiva Di tua sorella Tu zia Tu non Perfetto Cioè perfetto Pronti Banani Se parte Vai Ok Vabbè Lo sappiamo Sì 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 Mi sarebbe piaciuto Farlo Questa gente Sotto il mio dominio Vabbè Invisibilizzati Però Attenete Qua E vaffanculo No Questo Questo Non si può evitare Magari 24 Del loro test Ma Questa Incazzata Più incazzata Da di prima Ah Bugbeer Cazzo Bugbeer Da Benedetti Dobbiamo agire adesso Buglor 50 No Dai 27 Si può Ah no Sta qua Bugbeer Andò Bugbeer Tutto Bugbeer Qua Mi è passato solo il ragno Ok Tocca a me Devo agire Eh no A sto punto Fermi Dammi la freccia Io non so perché Non mi dia gli incantesimi Eppure sto carico Bingo Bongo Bongo Ba Ba Oh Ma Ba Direi che È stato un buon colpo Allora Non ho più Quindi mi conviene Dedicarmi Perché C'ho Amicizia Con gli animali Inverre a 4 Dai Proviamoci 12 8 Non male C'ha 1 Prossimo giro Muore da solo No Lo ammazza questo Va bene o male Ho fatto Una discreta Mattanza Cioè Sono tutti Bene o male No Non scherzavo Vabbè Scatto Mazza Come scatti Tu bomba Però Non c'ha più barilla Da lanciare Quindi Sono contento Sono contento Questo Ah Cazzo Questo non è Exploi Sei un esploso Tu Non ce la farò Farti esplodere Ok Adesso Adesso abbiamo Adesso abbiamo Chissà se ce la fa Qualcuno Tiracci Una bomba qua Madonna Che strage Facciamo Se questo Io pure Si è avvicinato Anzi Questi qua Invece Un bel dardo Invocato Qui Gale E li mandiamo Tutti Al purgatorio Ah no Perché Non è Esploso Maledizione Ci dobbiamo Togliere dal bordo Non mi piace Il bordo Possiamo Chiedere giù Dal bordo A questo Me lo tritiamo Cazzo Ce ne frega Ah Perfetto Come dicevo io Quando li uccidi Questi Esplode tutto Fatto pure Hai fatto pure Bei punti di danno Questi Comunque Arrivano Belli A stessa Armatura Sto stronzo Eh Ho questo Questo Aspetta Qui Eh Una Che io Ho paura Che questi Poi si avvicinino Perché poi Devo pulire Per questa Quando arriva Questa Comunque Ci cagherà Un po' Il cazzo Come si dice In italiano Sbagliata Sto sull'unto Vero Allora Potrei far scop... Però Questa Questa Secondo me Non esplode Vabbè Non possiamo provare Che qua Ci hanno fatto Unto Ma Un po' Sto proprio Questo è un movimento Non soffricendo Che cagata Ma perché Non mi attiva Ma no Vuoi vedere Che c'ho L'armatura Porca Scusate Sono Sono nudo Vabbè Si ho visto Un po' Di tettine Devo rimettere Aspetta Io sono Completamente Nudo Porca Puttana Ma mi fermo Non posso Fai niente Ah C'era uno Qui sotto Mamma che Certe volte La telecamera E' imbarazzante Ma perché Dove sta Sto zoglio L'ho ammazzato In deficiente Ci ha detto Un sacco Di tempo Si è baggato Ah guarda Come fa La telecamera Ma Cristoforo Non ci ha mancato Non ci ha mancato Non ci ha mancato No Devo Rafferone Sì 45 Sì Non ci arrivo Non so, non so Questo Eh, se li faccio Ma non è il mio percorso interrotto Da qua ti rimedio Da cosa è interrotto, tua zia? Doppietta Grande Gale, torno indietro Questa è estenuta Devo vedere un attimino Nell'inventario di lei Armatura Questa è tutta armatura del giro Porca miseria, devo andare col personaggio Per tutto il tempo Ah, gli posso passare a leggeri di questa? Ma perché le persone... Ah, se ti passa a leggeri di questa? Boh Mi siete coperti gli occhi? No, gliela posso... No, mandagliela a Salvini Salvini idea No, gliela manda No, gliela manda No, gliela vuole passare mutante Ma ragazzi, perché... No, gliela posso togliere in combattimento le mutante Ah, perché non è giocante adesso Ah, perché non è giocante adesso Eh, però ho 45 Ma che palle Ah, c'è il vuoto, dai Proviamo a schiacciarlo Ah, però è solo livello 1 Eh, sì, 30 Il 30% è veramente... No, niente Non posso fare niente Posso provare a 45, dai Eh, a tardi Tiro di salvezza Però glielo ho fatto vedere Oh, è morto un altro Perfetto Tutti gli altri Carica Dove sono tutti gli altri? Ok, il ragno E l'altro ragno è morto Ok, c'è la... Porca... Io l'ho tolto le mutante Ma va bene Questande mutande Eccoli Perfetto A posto Ma, almeno l'Igge Ok Lei è nuda sotto Però ci interessa relativamente Ok Ah, questo qui Vi bisognerebbe Bisognerebbe Dargli una lezione Intanto ho messo Ok Perfetto No, non posso passare Da nessuna parte Metterò un attimino qui E scaglierò Una freccia In tinta Di veleno Semplice A questo Che non ci arrivo A questo Che non ci arrivo Manco Manco I Dio Non ho una... Perché non ha te Perfetto Tiragli una freccia Questo è al 75 Questo è al 42 E questo 49 Vabbè Se chiama l'orc Muori orchetto Stiamo facendo Di spezzo In due Sto bloccato Lì Oh e dai che non si vede In cazzo Telecamera Non ho visto Che cosa sia successo Ma posso usare Il corno da guerra Lo incoraggiamo Lo incoraggiamo Tutti Che dà Incoraggiato Incoraggiato Per 5 8 punti Per vita Temporanei Passa al cazzo Ciao bello Vede qua Devo provare a usare Thea Alzate solo voi due Non vi muovete Siete buggati Bravo Allora Adesso Ho Un cantesimo Distante Troppo lontano Addirittura Per questo Mi dovrei mettere Da qualche parte Distante Distante No vede questo Niente No Non arrivo E non so Non c'è più nessuno Qui Cioè Sono rimasti Davvero solo quelli Questo pure Dove arriva Che devo fare Dove scende Non posso Vabbè Apro questo Questo Se l'è fatto da solo Bra Ah Finalmente Sta scendendo Aspetta però Io c'ho Lui che sta In mutande Perché c'ha Questo però Dovrebbe avere L'armatura L'armatura Leggerna Non li può Vendossare Veniamo un attimo Vai Perfetto Ma perché Lei fa Tutte Ste Storie E poi sta Qui Se gli Riuscissimo A dare Perché Il percorso È interrotto Va Tocca Salvini Salvini Tocca Gale Gale Dove Gale Gale Ombre Nudo No Gale Non ci arriverà mai Fino alla Non ci arriva Fino alla Gale Manco questo Gale Tocca Scegne Meno nove punti No Meno nove Sono tanti Ma nove punti Vita Sono tanti Da qui Non riesce A colpire Lo Che Porto io E niente Se c'è Dell'unto Qui Me lo togliamo No Niente Vabbè Fai così Fai finta Che non Ti ho detto Niente Immaccia Alla miseria Non si può Terrasportare Questo Ma questa Si muove Date loro Il colpo Di greco Più dodici Si è riparata Sta zocco E boh Ci mettiamo Tutti i vanti Qua Come ha fatto Giustamente Zipep Qua Il mio turno Il mio turno Io non voglio Che casco Va bene Mi spiace 18 Ho fatto a perdere 18 Non era uno solo 8 Te va a suonare Il corno Ma che cazzo Veramente Sta così Questa Si sta Abbaffando Come poche robe Gale A che metà In grandissimo Porca Miseria Di questo Non lo so Però così Ho Uno Due Tre Così T'ho sfondata Amico Ma Gale È morto No Pronto Gale Se non ci arrivo Col porco Unto Qua Si è sbloccata Male Male Si è sbloccata Male Un' Basta C'è Se non ci arrivo A che metà C'è Sbloccato E' Sbloccato Come po' Se non ti arrivo A che metà Di questo Non ci arrivo niente ho anche il 30% sono talmente preso dalla battaglia che proprio mi dimentico di farla queste morte e vabbè niente ma uccide questo 7 8 torno ma se Gale è morto che devo fare posso ancora rialzarmi ma perché me la ok non può raggiungere la destinazione e non ci posso questo è ad aria posso fare se posso suonare il corno magari si rialza che cazzo morto ancora già non può essere ancora già nooo 24 bastarda è deciso il mio amico non posso manco dirlo 2 non posso 30% grande quanto ha dato dei punti esperienza dai che sta un amico mio qua dove è Gale dove è Gale beh ce l'abbiamo fatta certo però io ho Gale morto è puro come quello di ogni altra eroe ah però se ne vogliono andare dal boschetto quindi perché diciamo io qua potevo finire in tre modi o uccidere i tiefling questi uccidere i druidi uccidere i goblin quindi in questo modo ho fatta safe oh che bello dai dai siamo siamo preparati siamo presi un bel po' di di punti esperienza ma non abbastanza allora vediamo un attimo oh armatura di ragno ma se inculamo tutto 0 no mi serve la mia regola uuu quello che vale più di 50 lo teniamo l'ira no l'ira però mi piace oh ma è un flayer può renderti più forte ah qui possiamo fare la scelta apri la mente al girino guarda lì che aspettavano il mio potere è aumentato però mi capisce guanti stivali armatura abito a casa non mi serve le scarpe mi serve scorte da campo mi serve dopo oltre un secolo di duro lavoro false piste speranze e naufragate la soluzione per salvare le torri dell'alba lunare potrebbe essere giunta nel boschetto ed essersi presentata a me spontaneamente se effettivamente è una maledizione dell'ombra la strada che conducono le strade che conducono la cittadella restano tutto rimpercolibile forse c'è un altro modo bla 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 silvano questo è il libro più lungo che abbia letto finora ma non perché gli altri sono veramente felice il riassunto del libro beh immaginavo che fosse una missione questa ce la prendiamo questo non ci serve goblin in secolo la traccia ne sono zurga questo lo prendiamo ti scherzo mi interessa un soldino seguitrice i funghetti ti race i funghetti goblin combattente si può vendere allora questa l'abbiamo già volita aspetta però ci possiamo inculare il vestito giustamente ah ma non manco mettiamo il vestito di ginkana non si vede oh vedi qua perfetto ma dura questa non le posso prendere questa che fa ti risalvezza e costituzione beh sto messo tranne lei lei perché c'ha ma perché si è messa questa qua non ce l'avevo un'altra eh cato giustamente ma mi chiediamo l'armatura della prendiamo questa prendiamo questa la lirana ha detto di tre spalle si capisce un cazzo ok per tipo questa ce la possiamo mettere e dire che è già un'altra cosa vabbè ottieni un bonus di più una prova di fortità tiri salvezza su costituzione vabbè dai mi sembra comunque un'ottima questa equipaggiata questa non serve a niente bene giusto tutto è bene aspetta però c'ho un'altra arma mi sono culata da questa eh tipo che fa una volta per riposo breve quando manchi il bersaglio con quest'arma puoi avvolgerlo di luminescenze che gli faccio mi sembra un cazzo mazza frusti bel mazza frusto io c'ho gli stivali del passo lungo non sono competente in stivali vediamo se lei è competente o lei è competente in stivali vabbè guarda lì ho fatto già tutta roba bene guarda c'era un attimo dall'alto era una strage qui 50 50 si metto metto dall'alto perché era 50 si vediamo chiave della gabbia che gabbia di che gabbia stava parlando 65 beh devo togliere le risole dell'alto madonna quanta gente meh bombaroli e tanta roba anche molti soldi uh grande blocca persone passo velato ecco questo volevi imparare prendi tutto il passo velato però glielo diamo a Gale oh perché lo posso imparare ottimo passo velato mi serve qui per passo velato ah no prendiamo lei e ci riprendiamo questo lo portiamo dietro avere i giusti barili esplosivi madonna quanta cazzo di roba sta ancora a terra tutti questi avevano un nome una famiglia io li ho scartavetrati ma quanti cazzi vabbè sai proprio dieci dieci non mi serve a niente sei dieci non mi serve a niente bene abbiamo visto tutto no questo manco basta basta ok perfetto direi che abbiamo fatto bombasten ok adesso con chi devo andare a parlare che missioni ci sarà guarda sono tutti contenti adesso sono le maestre sidrina non ne parla proprio ma tu hai riscatra vita per noi e tutti ci amano in città posso parlare al bue perché il bue affamato vi faccio vedere una bella cosa amico aris altri bipedi piccoli sparchi del peste cioè illucinante la posso proprio rubarmi tutto sono nessuno mi dice niente mi inculo tutto compa io sono il salvatore voi non mi potete dire nulla niente mi potete dire stronzi gruotta sono contento di essere stata d'aiuto lo sono anch'io sono certo che poveri si dichiarano d'accordo quindi ci togliamo un po' di roba abbastanza peso tutte queste armi insulse so che posso metterle alla mercanzia ma io sono uno di quelli che le fa con calma le cose ah così ma non è vero assolutamente ah però 368 con dei guanti acchiappa poi intercettare i progetti e chi attacca a distanza con arma e ridurre il loro danno in d10 figo questo però frantumare adesso sono tutti livelli 3 danza della pioggia creare acqua molto utile creare acqua ultimamente sto cercando di riscoprire proprio l'acqua aspetta però potremmo prendere una freccia perché una basta palla di fuoco questa già ce l'ho sembra di sì però non la posso usare già la posso usare un buon shot queste tutte le cose che ho 40 le frecce se inculiamo le frecce un po' 3,75 ma già è più elevato vorrei aguantarlo abbiamo ancora un po' di anelli da buttarci dentro ah pure dei bicchieri ma sì dei piatti così me la libero questa sta veramente abbottata strumenti di disarm vi servirebbe una cintura adesso non c'è una cintura quando la chiede questo che è esiste la concentrazione impareggiabile ma mi si mette c'è dai no perché sei una un puttano posso metterci una bottiglietta d'acqua che è ah no un po' di libri ma che cos'è questo libro posso leggerlo la regola del 3 ci metto la regola del 3 e bottiglia vuota per pozioni e questi due niente non ci vogliamo arrivare ci devo mettere per forza soli te mi sono liberato vediamo gale se c'è qualcosa di vabbè questa sono un po' di roba però siamo i quanti quanti ma siccome me li prendo questi 400 però con tanti se non ce la faccio proviamo martello me lo lascio per ovvie ragioni antico diario frega la minchia quel martello mi ha salvato la vita un sacco di volte dai gli metto pure le ova ma c'è sto stronzo e e e siamo a 92 siamo a 92 non ce la facciamo non ce la facciamo niente l'armatura me la posso mettere con questa no non sto con la mia sto con l'altra e e niente volevo prendere volevo prendere questi vabbè dammi i soldi dove c'hai i soldi merda dove c'hai i soldi ecco i soldi 93 vediamo se mi baratta maggio che che lurido proprio perfetto basta è a cagare bastardo ok devo tornare da demon sarà questo demon sempre sempre lui il commerciante stava su ah lei rossa è allucinante quanto si approfonda questo gioco se io ci parlo con un altro personaggio mi parte un'altra linea di testa un anello di uno stantuffo forse sta perdendo olio dispiace ascolto un attimo mmm due occhi si scioglieranno ce l'abbiamo a far interna addirittura perché noi bruciamo ah quindi assolutamente sì perché noi ce l'avevamo il ferro dietro meno male che non l'ho venduto dai aggiustami probabilmente questa linea non l'avrei mai vista se avessi aiutato i goblin o i druidi sono ancora calda con un buco dell'inferno mi sento meno mutivole per quanto riguarda non ho ancora trovato una soluzione ma non mi arrendo potrebbe servire una specie di isolamento della camera come se avessimo una sorta di refrigerant da non è non è no non è non è che è che è tagli enti svantaggio a me l'aveva messo a posto mercanzia il ragazzo faceva schifo vediamo un po' se lui avrebbe bisogno di stival ovviamente stivali non non ci sono vero? mi torgo un po' di roba 41 vediamo quanto costa una freccia 100 non voglio niente è troppo costoso ok abbiamo risolto anche un altro problema vediamo che cosa dice troviamo qualche cattivano da parte di prendere la scheda troviamo un altro per inventi faremo anche quel senato troviamo qualcosa per farti bruciare allora bene bene se inculiamo qualcosa se inculiamo qualcosa qualcosa se inculiamo tutto se inculiamo se inculiamo il calderone se è andata la tizia o è morta fangulo non c'è mi posso fregare tutto la salsiccia è tutto il calderone dell'acqua mi risiede la forza leggi questo amico va bene è morta quella perché non c'è qui è un culo tutto se inculiamo pure pure le cose non ci servono tegliera tegliera rosfo se siamo inculati tutto ma se siamo inculati proprio tutto perché io non posso essere un ladro anzi qui posso essere un ladro se inculiamo tutto se inculiamo se inculiamo da dietro se mi ha scamato ok vediamo la la cartina cartina trovare la guardatrice Netti ma non l'abbiamo trovata Netti mostriamo sulla mappa quindi devo fare questo giro bene se abbiamo ah ma c'è una altra in giro del mondo tipo questo cancela cancela perfetto eh perché se no diventa veramente complicato arrivare però qua si si potrebbe inculare qualcosa ah no però qua si siamo inculati già tutto ma vuole di legno ma non c'è nessuno ma si inculiamo si inculiamo tutto proprio ma che ce ne frega ma che ce ne importa se ne stanno tutti andando scusa amiche dobbiamo scusa non c'è niente forse un attimo di vista che ci sta qui c'è un comune nel comune che cosa c'è la percezione che mi ha detto che c'è qualcosa vabbè delle borse 15 ma questi perché non stanno a fare forse non ancora sicarie hanno finito il rito qua stanno facendo il rito di protezione lei è un dito in culo ma in gerona l'avevo decisamente torto perché sei una miscredente qua pure mi sono inculato le cose cioè mi sono entrato mi sembra di rastelto che via vediamo con chi dobbiamo parlare questi sono tutti amici molto amici adesso sono verdi l'idolo non riuscirò mai o io devo salvare non so se se ne accorpano che mi è un culo lì c'è una missione con i tiflin bimbi di base non lo posso vedere oh ma questo non dite in culo eh se mi in culo tutto aspetta qui non mi vede nessuno o se ne accorpano tutto se ne accorpano tutto tutto quanto tre patate ma l'occhio se poi lo apri e c'è qualche qualche missione te lo dice abbastanza celermente ma mi frego già cilio ma che me ne frego guanti di netti ma ci imporiamo guanti di netti piatto storie orali forziere queste missive potrebbero mi interessano le sottotrame tra quale se siamo in culo di tutto ma questo pure potrebbe in cularsi ci sono No. Intimidire. Cazzo. Madonna che schifo. Madonna, ridia. La, sign. Bye. Ok. Allora, inganno. 15, che cazzo. Ma che cazzo, ma che... Ma ti sembra? Ah, ma era netti questo? Senti, ce la dobbiamo andare prima che i turni... Aspetta, però ci inculiamo pure questo. No, se Silver ci parla in maniera... No, Silver è incazzata nera. Pace, finalmente. Vieni a non guastarla. Vabbè, ho reso un gran servigio, però non mi fa fregare niente. Forse è il mio vuoto. Ma questi già li ho aperti, praticamente. Allora, li dobbiamo tornare da netti e sperare che... Sono ingombrata? Sono ingombrata? Chi è ingombrata? Quanti vinetti? Non servono un cazzo, però. Mettiamo di là. Caciglio. Lascia il genio. Oh. Speriamo che non si ricorda. Oh, ma mi parli? Non mi vuole parlare? Non vuole parlare con nessuno? Perché non vuoi parlare con me, netti? Cosa ti ho fatto? No, no, no. E ora io come faccio? Come provo a farmi... Non mi vede più? Non mi vede proprio? Non mi vuole più vedere. Non mi vuole più vedere. Lo leggo, ma... Mettete pausa... Ma io come faccio? Perché è verde? È verde amico. Giusto? Sono tutti amici verdi, no? Verde, verde amico. Verde amico. Perché non posso parlare con me? No. No, gli curo l'uccellina. Il gioca che dice tu stia bene o che cacca? Ma perché non posso attaccare? Cioè, non posso sbagliare? Eh ma io mo come devo fare? Mo faccio... Prova a fare un turno ambientale. E a parlare con Nettie... Niente. Vado in accampamento vediamo che cazzo è successo perché vorrei che si fosse buggata mi direbbe insomma mi direbbero male. Vado in accampamento. 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 Per l'altro per il mondo. No io non ho. Eh tra le altre cose eh. Credo che noi e noi possiamo essere certi l'una dell'altra. Potrebbe esserci un prezzo da pagare che non ancora conosciamo. Non ti basta vedermi. Eh non ti basta. 23 super successo abbiamo finito adesso va bene perché lei lei ci prova con tutte il mio personaggio è come su The Simpsons ci prova con tutte per esempio adesso andiamo a da cuore nero diciamo senti certo ma noi non ci siamo andati volevi parlarti quella notte ok appena trovato un po' di coraggio non riesco a ricordare l'ultima volta che condizio così tanto con un'altra persona forse non l'ho mai fatto ha significato molto per me c'è una trama di amore quello che era prima il bacio quella notte ha significato molto bene spero che ci saranno forse mi sono lasciato dalla sportessa è stato un errore no sono certa il tipo di corteggiamento che potremmo avere con tutto quello che dovremmo affrontare ma se tu vuoi vedere come andranno le cose vale anche per me oddio siamo una coppia dovremmo andare ognuno per la vostra come ti senti? sempre bene quando sono con te oh Cristina da venire in concerto ma sappiamo da dove arriva cosa ci affetta alla fine del percorso non sarei mai aspettata che la cere morfosi potrebbe essere allettante quando muore esisterà ma non sappiamo è proprio che io non sono affatto a nostra cosa possiamo veramente permettere questo potenziale vantaggio madonna ma sono tutti altissimi una porta che ha fatto un successo col culo forse hai ragione vabbè esploriamo questi vantaggio se lo so che non finiamo per pentirti va bene ok io so che dovremmo avere un altro girino qui cuore fan sfrusti dovrebbe avere un altro girino da qualche parte no c'era una tanica non vorrei averla data l'ho data vero oh non l'ho data non posso averla data allora vediamo un attimino allora per tipo dove è una baraccina non vedo baraccine qui no andiamo qui per tipo ci sta messo usa ah posso usarlo indagare sono più attenta 10 oh madonna ma guarda che c'è una sfiga nera c'è manco tiri non importa quant'è capiti fammi sapere se bisogna un po' di olio di gomiti in prestito non si staccava non si staccava ok non ho una armatura no 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 non ce l'ho ma posso suonare questo una melodia pessima esibizione ma quindi io tutto c'è dov'è gail gail vieni un attimo che tu c'hai ancora sta tizia qua che dovrebbe essere un animo pura con e tira qua un attimo grazie qualcuno ha chiamato le guardie ma nel mio accampamento eh ma non posso non c'è tipo questo no eh gail e mo ne sei andato ti hanno visto una leggera un morto ma sai che c'è come quello l'ho uccido proprio dove cazzo è andato vediamo se lo portiamo dal vizzito dove c'è andato quello ah stava ancora là fattene c'ha uno l'ha vizzito quindi c'è proprio si viene allora questo c'ha 18 potrei segarlo con una botta sola ma vorrei usare un trappolato per dieci turni per dieci turni quindi di puttana ok vabbè dormiamo ma che è tutta sta gente qua? ma che è tutta sta gente qua? ma che è tutta sta gente qua? quindi questo potrebbe unirsi a noi ma c'è un bicchiere volante qua? ho pure Gale si messo una cosa addosso questo sta ancora qua trovarti un nome ovviamente il popolino dopo tutto voglio che questo racconto sia in grado di affascinare custode del boss flaggello di goblin flaggello di goblin non vorrei uccidere qualcosa ma sto merda zenglar zenglar zelar zerfrenza 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 quindi sono tutti contenti perché li abbiamo fatti nei cani morto non perché c'è un cane morto anche di serra aspetta che devo fare una storia poi questo è ancora invisibile c'è sta in questo senso è sempre vabbè dormiamo basta troppa gente si vai a dormire troppa gente qua il fragore di queste gente si riduce un rassicurante e bruscamente ti avvicini alla tua tenda bellissimo questo vestito devo dire i pensieri altalenanti su quale provo a dormire grrrr cerchè assolutamente indubbiamente un enigma ma vorrei davvero che le cose fossero diverse andiamo ma non è la nostra tenda questa ah perché potevamo potevamo andare a parlare con lei di notte ha capito non riesco a credere che tu abbia inflitto un altro a te tu e io ecco ammettilo non ho avuto una relazione anche se riuscite a ricordare non sono sicuro te lo direi non voglio che il tuo è così diventi si misura vabbè ok vabbè usciamo dal campamento quello è ancora nudo voglio giusto vedere se si riesce a parlare con Sanetti ah ok si è sbagliata cioè ho combattuto per i profibi non per te puoi dirlo forte non posso farmi sapere questi matti sono ben accerti ma la riga come pensa lo sarebbe più brutta notizia per te sono una guaritrice non ho banchiera non ho banchiera che mi ha dato? che mi ha dato? che mi ha dato? ma la data sta merda un po' una merda ma non non mi ha guarito però ah ma perché adesso noi giustamente io non non che è? per sicuro non l'avremmo visto l'indomani se al cielo mi sbagliavo ma scusami ma non devo finire la missione di merda le missioni quando abbiamo chiesto di guardare ci è stato detto di cercare nella parte interna e lei è Netti cosa cazzo devo fare? parla con l'uomo ignudo no niente non ci odia ci ha parlato con Netti però io ero sicuro di avergli lasciato il contenitore con l'esserino che ne ho mangiato uno solo dovrei avere l'altro esserino dovrei avere l'altro esserino forse qua dentro no non c'è dentro no se l'ho messo sbaglio qua se tutta roba ai soldini undici soldi soltanto vabbè posso mettere nella sacchetta un'altra borsa di cuore ora l'ho messo dentro il girino dove cazzo sei? il girino di merda è del latte che ci faccio bene lascia già no no non ce l'ho non c'è più è scomparso questa non ce l'ha questo non ce l'ha non mi sembra perlomeno questo non so che cosa fa esamino questa fredda ampolla di ferro decorata una volta che mi avessi incinata bella però bellissima dai cazzo 22 agli elementi decorati sono dei pezzi che c'ho più costosi ci sia qualcuno al suo interno ah ma come ci sia qualcuno? aprilo allora qui abbiamo un problema lo salvo sul nuovo salvataggio capire netti bravo mi guarda scritto bravo bene bene e volevo provare a questo punto a lanciarlo che cazzo che cazzo ci facciamo? lo possiamo buttare? lo possiamo buttare? ucciso ucccellino non c'è modo di attivare il cervo tipo però eh il cazzo lo fa termina ora proviamo a a fargli del male che cazzo lo fa termina proviamo a spaventarlo guarda perfetto no no ucciso netti 36 quant'arrivo a 40 direi? ah non lo posso fare perchè ci devo andare vicino 22 preparare ah ci sta pure preparamento 5 16 va ah eh l'ho pure mancato io vorrei 200 punti di esperienza Manetti è morto vediamo se c'è qualcosa chiave degli antichi è stato tramandato da da tempi bravo bravo tossina di viverna per ganire amicizia con gli animali mentalizza gli effetti di tutti i veleni boh sai che c'è sti cazzi vabbè ragazzi noi Netti l'abbiamo uccisa ci vediamo alla prossima o salvo non so poi ci penso ciao